Mia merkस Che culo questa qua F' meses tiempo Falo due larghe Madonna regal Sassi 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 Stanno su là Sassi ho preso No dai mi ha presa meca la trainata Qua e Savage Dov cleться Camera 2 allora è sopra communication attento l'atento la casa quella che c'è da fronte no 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 esclusivo piazzato no che c'è un ppsh e fai un wrong shot no guarda me si scende da mid molotov in arrivo vabbè non è solo ritardando ti ha detto bene che ti ha fatto la x no scappa no io non li falleggi e via